UAV pronto Durante la virata i sensori acquisiranno l'obiettivo HCX dinamico nell'area Firebreak eliminato Approvvigionamento in attesa TACOM, approvvigionamento al mio segnale UAV in allontanamento Talon, rotto Parito Colpo fulminante in attesa di coordinate UAV nemico in arrivo Autorizzare attacco colpo fulminante Maniac 3-2, attacco faldino Atacco, negativo Atacco, negativo Atacco, negativo Atacco, negativo